Otto anni fa io ero in centrale operativa al 118 e oggi mi trovo invece in piazza della Libertà a Tolentino con una veste completamente diversa da sindaco e con un'attività completamente diversa. Così come è successo quelle vibrazioni che ci sono state per demolire, adesso c'è un grande fermento per ricostruire. Il primo cittadino di Tolentino ripercorre i momenti degli ultimi otto anni, da quella domenica mattina del 30 ottobre 2016, quando la forte scossa di 6.5 cambiò anche la fisionomia della sua città. Lo stesso giorno di otto stagioni attunnali dopo si sentono suonare le campane dell'iconica torre degli orologi e rumori provenienti dai cantieri aperti. Queste gru sono il significato di un'attività fermente, di una vibrazione che ci non fa più paura dal punto di vista sismico ma è la vibrazione della ricostruzione, la vibrazione di uno spirito che vuole ricostruire. È la fase della ricostruzione che è a pieno ritmo. Ferve la ricostruzione sia pubblica che privata. Tra i cantieri pubblici aperti anche l'ospedale, le scuole, il campus, il complesso monumentale della Basilica di San Nicola, le chiese di San Francesco e San Catervo, Palazzo San Gallo e Castello dell'Arancia. Nei prossimi mesi lavori anche al municipio. Per il cimitero di Sant'Angelo è stato approvato il progetto. Corre spedita pure la ricostruzione privata, complice anche il super bonus 110 per la zona del cratere. Si riconsegnano appartamenti ogni giorno. Abbiamo occupazione di suolo pubblico per i cantieri tra 3-4 richieste al giorno. Tra riparazione e ricostruzione, nell'area si respira fiducia. Questi 2-3 anni che ci mancano ancora per poter finire sono determinanti. Io faccio un appello a tutti i cittadini, in questo caso a Tolentinati, di avere un po' di pazienza perché siamo in dirittura d'arrivo. Quando dico in dirittura d'arrivo non significa che avremo riparato tutto, ma la maggior parte di quello che era lesionato sarà pronto. C'è una voglia di rinascere e di ricrescita molto positiva. Ancora un piccolo sforzo e credo che potremmo dire che la rinascita è dentro l'angolo.